Avevo ordinato un regalo online un mese prima, ma soltanto il 24 dicembre alle 17 mi telefonano per andare a ritirarlo in negozio. I prodotti acquistati online non si possono cambiare. Ma ho acquistato un profumo e è arrivato un dopobarba. Certo perché sono della stessa marca avrà cliccato male sul prodotto. Guardi io ho qui la ricevuta. Ah certo se voi ordinate da casa per risparmiare poi sbagliate non ci devo certo rimettere io. Ma non avreste potuto sbagliare voi? Senta con me questa storia che il cliente ha sempre ragione non funziona. No infatti stavolta il cliente ha il bastone.